in guerra la forza è accompagnata da restrizioni insignificanti che meritano appena di essere menzionate alle quali si dà il nome di diritto delle genti e questa è l'opinione di von clausevitz ed è che anche quanto in sostanza dichiarano gli ateniesi ai meli mentre si accingono a sopprimerli lo scontro tra forza e diritto assume nel dialogo incastronato da tucidide nella guerra del peloponneso i toni di un dibattito filosofico tra necessità di natura e libertà di volere ma è del tutto veritiera la presentazione tucididea dell'episodio di melo i documenti in realtà di cui ancora disponiamo ne fanno dubitare aprono ad altre interpretazioni si può dire però che tucidide essendo aristocratico fu educato dai sofisti ad usare il dialogo e ciò lo si evince nei suoi discorsi oratori nell'opera di cui dicevamo prima ma anche da osservazioni acute sulla natura umana lui a differenza dei sofisti definirà senza accuse che l'indole umana è quella dell'antropocentrismo ossia della fame insaziabile di dover governare sul mondo anche per mezzo di metodi brutali come appunto la guerra anche le cause della guerra tra tene sparta dopo aver elencato i motivi storici delle scaramucce delle colonie corinzie lucidide arriva ad affermare alla fine che era scritto che le due superpotenze della grecia appunto perché una di esse avesse potuto affermare definitivamente la propria superiorità sarebbero venute a battaglia tucidide eseguendo il modello della monografia è pur sempre legato a dover fornire una breve descrizione della storia della grecia in generale fino al presente come di maniera tra gli storici pertanto nel libro primo traccia l'archeologia ossia memorandum molto semplice e sbrigativo della storia delle origini mitiche fino al quinto secolo avanti cristo per tucidide la storia è ovviamente un percorso ciclico come del resto visto anche da esiodo in cui vi è un periodo d'oro felice che poi passa all'età di bronzo all'età del ferro e all'età degli uomini quest'ultima quest'ultima parte è l'età della crisi e della sopraffazione degli ideali dello spirito con la tattica e la fredda statistica della politica ma tucidide intende per crisi non la fine di un popolo ma il semplice cambiamento dei poli ossia il momento di passaggio di uno stadio all'altro che si verifica con il polemos la guerra e da qui il tema della tiuchi ossia l'imponderabile movimento sovrannaturale impescrutabile che muove l'animo umano anche quello dei più saggi e dei politici più ponderati a compiere azioni contrarie necessarie come appunto il regolamento di conti tra te ne sparta che dove avvenire sarebbe dovuto avvenire proprio per motivi di principio verso i canoni di identità popolare che i due centri stessi rappresentavano nelle loro opposte visioni della politica e della vita sociale ciò in realtà non è da intendere come un percorso di decadenza verso la fine totale poiché lo storico non esclude il merito di atene di aver saputo produrre nell'età classica cultura e bellezza grazie alla costruzione di nuove opere opere pubbliche ma anche filosofia anche teatro ogni epoca è contrassegnata dalle vesti e dai simboli che indossano e adoperano le collettività dalle forme che queste assumono per esprimere se stesse e anche la visione del mondo né in quei tempi distinguere le costruzioni decisive da quelle accessorie o secondarie appare attività indispensabile e questo è importante per la riflessione di oggi il mainstream occidentale si basa su una grottesca epica di organizzazioni multilaterali grandi industrie città stato eppure anche la nostra era è dominata da nazioni e imperi nient'altro al netto di improbabili deliri e sogni espressi dal leviatano giuridico gli organismi multilaterali sono semplici strumenti di cui si avvalgono le potenze sia per amministrare particolari quadranti del pianeta oppure come forum in cui scontrarsi in dimensione negoziale sedi che brillano di vita altrui non della propria e condannate a cambiare con l'evolvere dei rapporti di forza che intercorrono tra gli strati tra gli stati quando questi avranno bisogno di assemblee diverse e per composizione e anche per luogo tanto meno risultano decisive le multinazionali altro mito corrente ritenute onnipotenti specie in europa si impongono unicamente sugli stati satellite soggetti ad un'influenza straniera mentre altrimenti devono agire in assoluta sintonia con le nazioni dove nascono ed esistono se nel caso poi dovessero per così dire perseguire interessi contrari a quelli della madrepatria sarebbero costrette a chiedere perdono a scusarsi come è successo nell'aprile 2018 a Zuckerberg che è patrone di meta in pratica in stato di accusa davanti al congresso statunitense reo a loro dire di avere anteposto il suo profitto personale all'interesse nazionale cedendo dati a una società in contatto con il governo russo in maniera speculare sorte peggiore è capitato a Jack Maggia presidente esecutivo di Alibaba gruppo un gruppo corrispondente cinese siamo il corrispondente cinese di amazon nel 2017 l'imprenditore criticò platealmente il governo comunista colpevole di aver bloccato la quotazione in borsa del suo gruppo provocando la dura reazione degli apparati pechinesi scomparso per diversi mesi si è ritirato a vita privata in giappone si dice dipingendo e rilassandosi alle terme nei nostri tempi per così dire questo ci impone una grande riflessione anche le città stato sono diventate un fenomeno impraticabile in un pianeta abitato da quasi 8 miliardi di persone soltanto una collettività dotata di una popolazione consistente può puntare all'indipendenza e alla sovranità sebbene questo non basti per l'egemonia altrimenti finisce per così dire sottomessa oggi le poche città stato presenti nel mappamondo vivono come satelliti imperiali la loro sovranità è puramente immaginifica come Singapore dittatura inserita nello spazio americano oppure Hong Kong esistente in quello cinese ormai praticamente assimilata assorbita nella Repubblica Popolare Londra che pur aspira a diventarla e questo si è visto ai tempi della Brexit e del referendum è una piazza è un asset economico internazionale ma lo è perché la Gran Bretagna residuo imperiale è storicamente refrattaria a cambi di regime endogeni o esogeni premessa appunto questo di ogni solidità finanziaria il soft power della capitale risiede nelle garanzie di stabilità non nel suo valore intrinseco anzi Londra rischia di pagare molto caro la possibile dissoluzione del Regno Unito provocata dagli orizzonti diversi delle nazioni interne che hanno ricette molto diverse aspirazioni diverse per il futuro condizionato anche da flussi demografici e immigrazione che non sono mai elementi da sottovalutare nel corso dei secoli è stata l'ampiezza della popolazione regionale o mondiale a determinare il destino degli stati provocandone da una parte l'ascesa in genere in rapporto a dimensioni appunto medio-alte estremamente portate a svilupparsi nell'antichità le città stato sono regredite spesso ma non sempre a feudi durante il medioevo quando gli abitanti della terra calarono nettamente per scomparire in età moderna con l'aumentare fino a mezzo miliardo della popolazione globale nella metà del 500 da allora proliferano gli stati nazionali o plurinazionali al loro fianco stati che erano province di imperi altrui e altri postcoloniali tracciati e benedirlo arbitrariamente da potenze straniere sopra di essi gli imperi strutture sopravvissute a ogni epoca le uniche capaci di raggiungere l'egemonia storicamente falcidiato da masnade di conflitti tanto sanguinosi quanto dimenticati l'africa è un continente che al tempo delle grandi guerre in ucraina e medio oriente sembra quasi un continente noioso un continente di cui non si parla più e invece mentre i proiettili fischiano altrove proprio in africa che le grandi potenze mondiali si stanno sfidando muovendo le tessere del domino lontano dai radar mediatici dell'africa occidentale l'alleanza degli stati del sahel burkina fa somali e niger alleanza con la russia a fare da minimo comune denominatore in aperta opposizione all'eco vasto di espressione occidentale rischia di allargarsi sempre di più e di innescare un desiderio di emulazione anche in quelli che sono gli stati vicini in senegal le recentissime elezioni hanno premiato bassiro di omai e faie che si è insediato con l'intenzione di ridiscutere a fondo gli accordi storici con la francia il togo a breve potrebbe intraprendere un percorso analogo altre zone dell'africa come che so quella centrale sono feudi già battuti ad esempio dalla Wagner che a dispetto di tutte le buffonate che hanno scritto in occidente prima della morte presunta diremo anche di Eugenie Progozin quando sembrava che i suoi uomini avessero il dono dell'obiguità e fossero presenti in tutto il mondo e più organizzata che mai e alla sua presenza appunto come formazione tricuspide una parte confluita nella brigata cecena akhmat e le altre in altre formazioni come la redut e un'altra anche nella guardia nazionale russa un'altra ancora resta attiva nei vari paesi africani in cui ha curato interessi da centinaia di milioni di dollari ma sotto un controllo più stretto da parte del ministero della difesa russo in tutto ciò è bene capire che la russia ormai da tempo sta provando a fare quello che una volta faceva l'unione sovietica rendersi appetibile per gli stati africani che sono per basi da una chiara sofferenza anti francese anti americana e più in generale o anti occidentale puntando non solo sulle armi della sicurezza tramite proprio l'istituzione di corpi come l'africa corps ma anche sull'interscambio culturale vecchio sogno di epoca sovietica appunto e sui rapporti politico diplomatici a mosca tal fine è stata inaugurata ad esempio la cosiddetta africa iniziative un progetto già finito nei radar del dipartimento di stato americano e su cui la russia punta per aumentare la propria influenza nel continente appunto africano l'iniziativa africa è stata lanciata come partnership tra il forum globale i suoi membri africani e varie organizzazioni regionali e internazionali e vari anche partner per più in generale per lo sviluppo istituito inizialmente per un periodo di tre anni dal 2015 il 2017 è stato rinnovato per una seconda fase 2018 2020 appunto nel novembre 2017 in occasione della riunione plenaria del global forum e si è tenuto a hyundai in cameron un nuovo mandato triennale una nuova governance sono stati concordati per il periodo 2021 2023 durante l'ottava riunione dell'iniziativa nell'ottobre 2020 e nuovamente durante la quattordicesima riunione nel novembre 2023 per il periodo appunto 2024 2026 ci sono stati risultati sì con i primi risultati incoraggianti altri partner per lo sviluppo hanno aderito all'iniziativa che ha beneficiato di un impegno significativo a livello ministeriale per garantire il consenso politico e uno slancio per così dire sempre sostenuto ciò si riflette appunto nella dichiarazione di aonde che fornisce sostegno alla lotta contro i flussi finanziari illeciti provenienti dall'africa l'iniziativa africa attualmente copre e seduta da eduard chieswetter commissario dell'agenzia delle entrate sudafricana la cosiddetta sars e da filippe cocu da biciodie commissario generale dell'ufficio dell'entrata togolese è aperto a tutti i paesi africani che non vogliono che i loro soldi finiscano fuori contattualmente 39 giurisdizioni diversi partner 17 donatori i suoi membri si incontrano ogni anno per fare il punto sui progressi compiuti e riflettere sulle sfide rimanenti è stato concordato un ambizioso programma di lavoro per sviluppare e consolidare una cultura della trasparenza e dello scambio di informazioni ovviamente su richiesta nei paesi africani e per progredire verso l'attuazione dello scambio automatico di informazioni cosa fondamentale nell'epoca contemporanea anche in africa dunque gli stati nazione sono i soggetti più diffusi del nostro tempo condizione a cui teoricamente corrisponde la contemporanea accezione di popolo da decenni la storiografia mainstream ne intona il de profundis eppure dal 1985 al 2022 quelli ufficialmente riconosciuti sono passati da 171 a 206 tanto successo e diretta conseguenza della loro cifra antropologica misto inaggirabile di ferocia e identità i più umani dei sentimenti la nazione è dunque un soggetto collettivo che si ritiene compiuta composta da esseri umani sicuri di possedere un destino comune consapevole della propria diversità rispetto alle altre destinata a confrontarsi e naturalmente ad affermarsi con queste la genesi di ogni nazione si compie in tre fasi con l'affermazione di un ceppo specifico sugli altri a cui segue la fusione con gli sconfitti fino a produrre una comune matrice sentimentale in ordine cronologico uno specifico gruppo sottomette le genti presenti sul territorio ne obliterà le opposte ambizioni poi una volta ottenuta la sottomissione degli sfidanti non si contenta della supremazia crea la nazione obbliga gli sconfitti a fondersi con sé per produrre una nuova stirpe disegna i margini entro cui dovrà vivere la nascente aggregazione in pieno soggettamento si realizza l'assimilazione i vinti adottano costume lingua e pelle altrui terminano il legame con il gruppo di origine rinnegano ogni solidarietà che sia aliena col tempo tale forziosa unione produce appartenenza gli ibridati discendenti smarriscono la memoria dimenticano le sofferenze subite dagli avi divenuti progenie di carnefici e vittime elevano le ingiustizie patite al legittimo strumento di ascesa episodi di una affascinante epopea soprattutto attraverso la pedagogia ovvero la storia insegnata nelle scuole che racconta una placida genesi siamo in pieno incantamento geneticamente intrecciate con il resto assenti al momento della creazione le successive generazioni perdono il ricordo della violenza iniziale si intestano la traiettoria comunitaria sostengono convintamente sforzi e sacrifici il destino comune si compie fino all'inconsapevolezza dei cittadini attuali ignari di ciò che fu convinti di poter replicare altrove il processo in forma incruendo fraintendimento che eccita i sostenitori dell'integrazione europea peraltro inconsapevoli di come il continente sia dentro il campo imperiale appunto statunitense questo il meccanismo della nascita di una nazione violenza iniziale incantamento appartenenza sono di dati fondamentali tutte le nazioni possiedono un gruppo modello culturale dominante conseguenza conseguenza della propria realizzazione impossibile il contrario l'italia contemporanea nacque con l'affermazione della fazione sabaudo sarda sul resto della penisola sforzo che a metà dell'ottocento incontrò notevole resistenza nel mezzogiorno espressa per esempio attraverso il brigantaggio rivolta popolare derubricata nella nostra storiografia a semplice criminalità erano per due terzi italiani soldati pontifici che nel 1867 difessero il lazio dei piemontesi addirittura erano tutti italiani i 6.000 incaricati di proteggere comandati dal generale giovanni battista zappi lo stato pontificio dopo l'unità la monarchia savoiarda confermò il fiorentino come lingua nazionale lasciando che i diomi altrettanto sofisticati dal napoletano al siciliano che veniva dalla scuola poetica siciliana di federico secondo scadessero a dialetto segnale di un impianto antropologico che si riteneva o lo era nell'età moderna superiore in francia la stirpe d'ohill parigina dintorni prevalse del medioevo su occitani e bretoni nel corso dei secoli altri conflitti hanno attraversato l'esagono nel 600 la popolazione si scontrò nelle guerre di religione per stabilire se la tradizione confessionale doveva essere cattolica o protestante provocando la morte di milioni di francesi alla fine del settecento deflaggerò la rivoluzione per decretare il regime d'attuare monarchico o appunto repubblicano negli stati uniti fu necessaria una guerra civile per selezionare il canone nazionale con la vittoria dell'approccio nordista di ienchi puritano calvinista sull'alternativa suddista il dixi episcopaliana catto anglicana in termini numerici la guerra con più morti stati unitensi tra quelle combattute dall'attuale superpotenza successivamente il gruppo anglosassone fu scalzato nella realtà cosa che di cui pochi in cui spesso non ci rendiamo conto da milioni di tedeschi che emigrarono il nuovo mondo processo lungo e doloroso stretto tra la crescita demografica degli immigrati e la resistenza degli angli la cina contemporanea è nata con la vittoria degli an sui manchu popolo di lingua altaica un tempo dominatore dello spazio sinico dopo il crollo della dinastia king all'inizio del novecento gli an si lanciarono contro questi presentandoli come barbari talmente diversi che negli anni 30 i giapponesi sfruttarono lo iato antropologico per fondare lo stato fantoccio del manchu quo giustificando l'operazione colonialista come ribellione all'egemonia cinese finché al termine della seconda guerra mondiale non si verificò la sottomissione degli allogeni attraverso notevoli all'inizio discriminazioni razziali e l'esclusione della classe dirigente trasformazione sancita negli anni 50 da Mao Tse Tung che beffardamente riconobbe lo status di minoranza protetta per i manchu diventati ormai cinesi e poi naturalmente l'integrazione vinse se vai a bali anche per surfare capisci tante cose un'isola pagana in mezzo all'islam asiatico più coriacea in indonesia i giapponesi si sono posti come guida dell'arcipelago attraverso l'occupazione fisica del territorio in cui erano stanziate le altre etnie sondanesi malai maduresi betac nel 900 milioni di giapponesi si sono trasferiti nelle isole del borneo su matra sulla oesi se le besse in papua in nuova guinea provocando la disperata resistenza degli abitanti locali presto relegati a minoranza nelle terre natali movimento che ha condotto alla definitiva islamizzazione del paese in giappone un popolo esogeno di probabile origine coreana poi noto come amato emigrò nell'arcipelago del 700 avanti cristo a scapito degli autoctoni su tutti gli aino spesso sterminati creando una nazione di eccezionale omogeneità chiusa nei confronti di ogni fattore esterno ogni nazione conserva un canone culturale preeminente una parte della popolazione che governa appunto le altre oggi l'italia figura tra le nazioni più omogenea d'europa perché se ne dica tutte le scempiaggini che sentiamo è priva di alternative antropologiche e culturali all'etnia principale con i vernacoli percepiti di appunto di dignità inferiore al termine di un processo iniziato con un risorgimento non privo dicevamo di ombre e maturato col fascismo e appunto con la prima repubblica tuttora il modello settentrionale resta per certi aspetti preeminente sebbene impiantato su Roma che è l'elemento di sintesi con l'italiano standard entriso di nordismi le espressioni romanesche figlie del cinema di alberto sordi in generale della grande commedia all'italiana realtà che appunto si riflette sulla dalla drammatica distanza e geopolitica che gli italiani hanno dal mare per complesso di inferiorità del nord soprattutto a partire dal crollo della prima repubblica cosa sia successo veramente il vel alla fine l'italia questa sorta di colpo di stato diventò ancora più colonia con la tragica sudditanza leviatano che chiamiamo oggi unione europea in francia lo standard parigino per esempio rimane inattaccabile qui la nazione corsa è l'unico fenomeno relativamente rivoluzionario benché parigi abbia tenuto di decidere qualsiasi legame con l'italia dando vita però involontariamente l'idea appunto di una nazione corsa battaglia eroica quella dei corsi contro il totalitarismo liberal democratico dei francesi che usano anche gli integralisti islamici contro di loro Ivan Colonna Ivano Colonna è stato appunto uno degli eroi che è stato un attivista corso militante indipendentista già condannato all'ergastolo che è stato eliminato per così dire in prigione hanno utilizzato gli integralisti islamici per cui anche su questo insomma su quello che accade attorno a noi spesso per così dire siamo da questo punto di vista rimasti un po indietro l'italia che è pure il paese più omogeneo del mediterraneo quello a cui tutti i paesi del mediterraneo per così dire guardano e non riesce a ritagliare per sé un ruolo geopolitico vi dicevo dalla fine della prima repubblica quando l'italia con mattei con aldo moro in parte anche con i governi andrea otti riusciva ad avere in un bilanciamento tra democristiani e comunisti socialisti con craxi riusciva ad avere un ruolo anche internazionale bene adesso tutta questa cosa a partire dalla seconda repubblica in in poi se si accettua per come dire le cose buone che per esempio berlusconi ha fatto nei rapporti con Putin con l'est europeo per il resto oggi l'italia non ha nessun ruolo segno che la sudditanza alla fine non serve nemmeno perché per quanto l'italia da decenni continua ad obbedire ciecamente alla nato all'unione europea poi non ha nessun ruolo nemmeno in queste organizzazioni e questo è accaduto fino a questo ultimo per così dire parlamento europeo che ha mostrato realmente che poi anche le elezioni sono per così dire delle meccanismi sono tali per quella fine non cambierà nulla o non cambia nulla e in realtà i veri cambiamenti sono esogeni cioè verranno praticamente fuori verranno da fuori e saranno determinati dal nuovo mondo multipolare nell'attuale per esempio repubblica popolare cinese per tornare prima l'assimilazione delle varie etnie è rimasta con gli anni come unico modello superiore vi sono anche altri popoli quello tibetano gli uguri che hanno sempre ruotato attorno all'impero pechinese e sono estranei alla nazione originaria in giappone la stirpe hainu costituisce lo 0,2 ormai della popolazione con gli yamato unica etnia riconosciuta così in indonesia vi dicevo il modello giovanese è pura ortodossia scambiato appunto vi dicevo prima per britannico l'uomo americanus è di ascendenza germanica e sentire calvinista la popolazione teutonica del mid west costituisce l'anima della nazione prima potenza del pianeta vale la pena approfondire l'evoluzione del ceppo dominante negli stati uniti dal gruppo britannico a quello di origine tedesca avvenuta anche con lo scontro con la violenza ai tempi della guerra civile mentre i nordisti anglo scozzesi sconfiggevano i suddisti di altrettanta origine britannica nel paese giungevano milioni di tedeschi unica etnia apertamente invitata oltreoceano dagli autoctoni che ne apprezzavano autoctoni si fa per dire gli indiani americani i nativi americani in poco più di un secolo quasi sei milioni di bavaresi vestfaliani turigi pomerani sassoni dal mecleburgo austriaci e svizzeri si stabilirono nel nuovo mondo specie nel mid west i luochi nello stato del wisconsin abitata per oltre il 60 per cento dei tedeschi fu ribattizzata the german hattens of america e non per niente fu usata negli anni 70 per simboleggiare nella straordinaria serie tv epideis la nostalgia per l'epoca felice degli anni 50 lontana dai problemi successivi l'impatto dei teotonici sulla cultura regionale nazionale degli stati uniti si rivelò impareggiabile ingrossati numericamente da scandinavi e mitteleuropei questi importarono nel territorio disciplina sociale senso comunitario approccio antischiavista divenuti maggioranza stravolsero la società che li aveva accolti durante la guerra civile si palesarono a livello regionale i primi sintomi dei capovolti rapporti di forza a west band nel wisconsin in una futile lite lo yankee george de barra coltellò il tedesco paul winderling uccidendolo sul colpo da questo banale episodio matura una storia convinti che una giuria locale non avrebbe mai condannato un uomo di origine inglese centinaia di cittadini di origine bavarese si fecero giustizia da soli con linciaggio i de bar con la guardia nazionale composta questa stessa tedesca che prendeva la parte dei ribelli quindi un episodio eversivo il punto di non ritorno si toccò nel missuri sebbene l'assemblea locale avesse votato per rimanere nell'unione nel 1861 la popolazione suddista dello stato pensò di compiere la secessione contro la maggioranza sassone il governatore claiborne jackson nativo del kentaki ordinò alla milizia statale di conquistare l'arsenale di st louis per costringere la popolazione a schierarsi con i confederati ma la locale divisione dell'esercito unionista composta per l'ottanta per cento di volontari tedeschi circondò l'accampamento facendo centinaia di prigionieri in segno di massima sedizione i miliziani originari di assia e palatinato trascinarono per la città gli anglo catturati sparando contro la popolazione inerma che assisteva alla parata al grido di dam de duc maledetti tedeschi nell'endonimo utilizzato allora corruzione il doic segno di massima per così dire disprezzo morirono decine di civili in quella che gli anglo ricordano come il massacro di st louis per la prima volta i due chiam e ricaner avevano imposto la loro visione strategica e culturale il missuri rimaneva sul fronte nordista l'america non sarebbe stata più la stessa soltanto all'inizio del novecento avvenne la definitiva assimilazione dei tedeschi ormai resti ad accettare un ruolo subordinato prima di scoprire di essere diventati inarrivabili per numero cominciavano praticamente una nuova storia quando nel 1862 l'inglese william penn proprietario dell'eponima provincia della pensilvania si recò in westfalia in palatinato non immaginava che nell'occasione avrebbe incontrato il ventre dell'america alla ricerca di immigrati per popolare il suo territorio e di correligionari da sottrarre alle persecuzioni l'ereditiere quacchero raggiunse le protestanti marche tedesche per persuadere gli abitanti ad attraversare appunto l'Atlantico ad anabattisti, mennoniti e pietisti promise terra da coltivare, assoluta libertà di fede è un panorama che ricordava i clivi dell'Eiffel l'appello fu raccolto da Abram, Hopden Graff e da altri 12 residenti di Krefeld in Westfalia che il 6 ottobre 1683 a bordo della nave Concord sbarcarono in Pennsylvania fu l'inizio del più imponente esodo verso quello che era il nuovo mondo questi originali 13 fondarono la città di Germantown, oggi cuore di Philadelphia e 5 anni dopo ispirarono il movimento antischiavista soprattutto, ed è bene ribadirlo, inaugurarono una rotta che nel corso dei secoli avrebbe condotto sul continente nordamericano oltre 7 milioni di connazionali di ogni confessione ed estrazione sociale Renani, Westfaliani, Sassoni, Bavaresi, Brandenburghesi, Pomerani, Turingi, Svizzeri, Asburgici, Germani del Volga che quasi per inerzia hanno plasmato la cultura americana è tramutato la nazione tedesca nel destino degli Stati Uniti ancora agli inizi del Novecento i Deutsche Amerikaner si tenevano a distanza dal resto della popolazione si iscrivevano alle Bahrain, associazioni legate alla madrepatria le chiese Sassoni erano sguarnite di anglo mentre i giovani di Indianapolis intonavano l'inno nazionale in tedesco nel 1916 migliaia di immigrati scesero in piazza a Chicago per celebrare il genetliaco del Kaiser Guglielmo II e poco prima di Pearl Harbor furono fondati parecchi circoli di ispirazione nazista alla fine del 1922 il New York Times riportava voci secondo cui Henry Ford stava finanziando i movimenti antisemiti e nazionalisti di Hitler a Monaco nel 1938 la Ford fu premiata da Hitler con la medaglia dell'Ordine dell'Aquila tedesca durante questo decennio i membri del Ku Klux Klan raggiunsero 4 milioni di iscritti e vennero approvate politiche discriminatorie in materia di immigrazione come l'Immigration Act del 1924 nel maggio 1933 Heinz Spacknebel ricevette l'autorizzazione da Rudolf Hess il vice führer della Germania di formare un ramo americano ufficiale del partito nazista il ramo era conosciuto come gli amici della nuova Germania gli amici della nuova Germania negli Stati Uniti il partito nazista si riferiva adesso come il partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori degli Stati Uniti sebbene il partito avesse una forte presenza a Chicago rimase con sede a New York City avendo ricevuto il sostegno del console tedesco l'organizzazione di Spacknebel era apertamente filo nazista i membri hanno preso d'assalto il quotidiano in lingua tedesca New Yorker Stats Zeitung e hanno chiesto che il giornale pubblicasse articoli solidali appunto con la loro ideologia la leadership di Spacknebel fu di breve durata poiché fu deportato nell'ottobre del 1933 in seguito alle rivelazioni che non si era registrato come agente straniero alcune corporazioni americane intrattennero relazioni commerciali che continuarono anche dopo le dichiarazioni di guerra diciamo che gli amici della nuova Germania si sciolsero negli anni 30 alla fine degli anni 30 il German American Bund guidato da Fritz Kuhn si formò nel 35 e durò fino a quando l'America entrò formalmente nella seconda guerra mondiale nel 1941 il Bund esisteva con l'obiettivo di un'America unita sotto il dominio etnico tedesco e seguendo l'ideologia appunto della Germania di allora ha proclamato il comunismo come il loro principale nemico ed ha espresso atteggiamenti apertamente antisemiti ispirato alla gioventù italiana il Bund creò una propria divisione giovanile dove i membri prendevano lezioni di tedesco ricevevano istruzioni su come salutare la svastica imparavano a cantare l'Orso, Wester, Laiede e altre canzoni naziste il Bund continuò continuato a giustificare e glorificare Hitler e i suoi movimenti in Europa durante lo scoppio della seconda guerra mondiale dopo che la Germania invase la Polonia le cose cominciano a cambiare nel 1939 i leader del Bund rilasciarono una dichiarazione chiedendo che l'America rimanesse neutrale neutrale nel conflitto che naturalmente seguì e espresse simpatia per lo sforzo bellico della Germania il Bund riteneva che questo sostegno allo sforzo bellico tedesco non fosse sleale nei confronti degli Stati Uniti poiché i tedeschi americani avrebbero continuato a combattere per un'America gentile libera da tutti gli elementi marchessisti, ebrei, atei, insomma tutti i nemici dopo molto controversia interna e di leadership il comitato esecutivo del Bund ha accettato di sciogliere il partito il giorno dopo appunto il bombardamento di Pearl Harbor l'11 dicembre 1941 gli Stati Uniti dichiararono formalmente guerra alla Germania e il quartiere generale del Bund fu chiuso appunto da agenti del Dipartimento del Tesoro gli agenti sequestrarono tutti i documenti e arrestarono 76 leader affinché perdessero ogni alterità culturale tra la prima e la seconda guerra mondiale furono creati negli Stati Uniti numerosi anche campi di concentramento per tedeschi per sfuggire alla discriminazione e ai linciaggi migliaia di loro indicizzarono il cognome come Schmidt, Schneider o Müller divennero Schmidt, Taylor, Müller i tedeschi rimersero dalle guerre perfettamente americanizzati in numero nettamente superiore al resto della popolazione divennero prima ettenita degli Stati Uniti sconosciuta maggioranza del paese dopo anni di discriminazione costrinsero i concittadini di origine britannica rinunciare alla pretesa di massima autorità ed accoglierli nel vertice della nazione oltre 100 milioni di americani su 320 milioni dichiarano almeno un antenato teutonico molto di più di irlandesi, inglesi, messicani, italiani, polacchi e lo standard nazionale resta germanico Donald Trump, vero cognome Trump si percepisce, porta bandiera del sentire WASP white anglo-saxon protestant dopo che suo padre tedesco del palatinato palatinato bavarese si finse svedese per sfuggire appunto all'internamento in un campo di rieducazione Peoria anonima città di circa 100 mila abitanti adagiata lungo il fiume Illinois è unanimemente ritenuta il luogo in cui vagliare ogni idea ogni prodotto materiale o politico Will it play on Peoria funzionerà a Peoria è il quesito che ogni operatore industriale o elettorale puntualmente si pone quando sta per lanciarsi sul mercato in ogni settore perché il centro possiede storia e popolazione profondamente tedesca la cittadinanza si definisce di origine tedesca per il 32% germanica per il 51% contro il 15% di origine irlandese o il 10% di origine inglese tra gli storici soborghi via Germantown Hills ovvero le colline di se stessa e da decenni è gemellata con Friedrich Schaffen cittadina del Baden-Württemberg situata posta sul lago di Costanza da allora aver successo da queste parti è diventato essenziale lo segnalano più volte i fratelli Gruccio e Arpo Marx tedeschi di Alsazia nel film Una notte all'opera del 1935 lo confermerà nel 1969 Richard Nixon anche lui di origine teutonica da parte materna Milausburg dicendosi disposto a scontentare gli irlienchi se i suoi provvedimenti avessero funzionato a peoria negli anni Bob Dylan, Rover Plant e Metallica hanno fatto tappa in questo fondamentale nodo dell'Illinois prima di loro a sconvolgere la tranquilla cittadina americana era stato Elvis nel 1956 poco prima di conquistare il resto del mondo con l'apparizione a Led Salimashow mentre le sue canzoni a partire da Heartbreak Hotel battevano ogni record lui passava di là e la cosa funzionò miniatura del Midwest regione inaggirabile perché innanzitutto tedesca dunque americana su cui è incentrata la giurisprudenza elettorale dalla seconda guerra mondiale a oggi due partiti d'America hanno sempre presentato un aspirante presidente o vicepresidente originario del medio occidente dal 1872 l'Aiova è la primaria il caucus con cui si apre il calendario presidenziale stato profondamente germanico inizio in contrastato della stagione elettorale prima occasione per rivolgersi all'anima del paese chi punta alla casa bianca e oggi è una cosa che interessa il mondo intero deve innanzitutto vincere nell'Aukio State abitato da appena 3 milioni di persone ma tedeschi e scandinavi per il 60% in pieno inverno esponenti repubblicani e democratici solcano in lungo e largo le 99 contee locali dei nomi evocativi come Bremer Humdolth per cassa cercando appunto di persuadere gli elettori a dispetto dall'astruso e poco attendibile metodo di voto qua i cittadini si esprimono per alzata di mano con un cenno del cappello o semplicemente a voce obiettivo ultimo in realtà è conferire un messiccio abbrivio a chi trionfa in loco presentato come favorito dai media nazionali favorito perché è capace di conquistare appunto il Midwest teutonico quanto alle elezioni presidenziali post primarie nei decenni sono diventati cruciali l'Ohio il Missouri la Pennsylvania lo stesso Iowa con il Bukai State e lo Shomi State in posizione spesso decisiva nel 1856 mai nessun candidato repubblicano è asceso alla Casa Bianca senza vincere in Ohio microcosmo nel quale si sono fusi i principali gruppi etnici del paese definito il cuore di tutto the heart of it all proprio dal locale ufficio di promozione turistica che vanta il German Village nella capitale Columbus e il distretto oltre Reno a Cincinnati attraverso tale ontologia comprendiamo che le nazioni sono nate attraverso anche la violenza qualsiasi progetto che ne preveda una massiccia dose è condannato a rimanere uno sterile impulso come per il reale nazione europea sviluppo che secondo i fautori dovrebbe realizzarsi a tavolino senza spargimento di sangue per convenienza o per stipula sogno meraviglioso da abbracciare immediatamente eppure fuori dalla storia illusione prodotta dal fraintendimento tra struttura e sovrastruttura dal postoricismo della nostra società che non riesce più a capire la realtà riconosciamo che l'Italia a mio modo di vedere è più nazione di Spagna Regno Unito Canada perché è più omogenea pressoché priva di tradizioni e popoli allogeni gli immigrati non modificano il contesto perché divisi numericamente pochi e cosa più importante nonostante tutto assolutamente in via di integrazione vantaggio misconosciuto in Italia possibile fonte di una strategia compiuta perché? perché potrebbe consentire di guardare all'esterno senza il timore di implodere oltre agli stati nazionali esistono costruzioni composte da molteplici nazioni storicamente il lotto tra loro per il dominio interno è il caso della Germania abitata da genti distinte dai bavaresi ai prussiani dai renani agli anseatici dai sassoni agli islesiani l'attuale Repubblica federale neppure coincide con l'intera collettività teutonica presente in milioni di unità anche in Austria e in Svizzera la storia tedesca è drammaticamente segnata dallo scontro tra le genti di dentro nell'ottocento è stato il ceppo prussiano a compiere l'unificazione affermandosi naturalmente sulle altre sulle altre sulle altre popolazioni autoctone con la battaglia di Sadduba del 1866 i soldati di Guglielmo sconfissero gli austriaci estromettendoli dall'imminente stato tedesco isolarono i bavaresi improvvisamente orfani del gruppo antropologicamente più affine il secondo Reich non seppe annullare le distinzioni locali nel 1933 i prussiani furono sostituiti alla guida dello stato dal blocco austro-bavarese portatore portatrice del nazismo a sua volta soppiantato dopo la seconda guerra mondiale da quello renano ansiatico la riunificazione del 1990 ha riacceso il duello tra la leadership federale e i prussiani brandenburghesi e sassoni spesso scambiato per ovest versus sest con i bavaresi contenti di condurre la propria strada particolare queste differenze hanno reso necessario che le norme sul surplus commerciale fosse principalmente impiegato per pagare l'eccellente stato sociale unico strumento per livellare le differenze tra ceppi in altri contesti in azioni distinte non anelano l'egemonia interna ma la secessione l'indipendenza lotta presente nei contesti che non hanno compiuto appunto l'assimilazione così la scozia nel regno unito in india con lo yamu e il cashmere di inclinazione musulmana oppure oppure in ezerbaijan con il nagorno karabakh abitato da armeni e inoltre esistono ettenie che si organizzano in tribù e clan comunità chiuse verso l'esterno fondate sulla biologia disponibili all'assimilazione degli allogeni spesso prodotte dal cosiddetto effetto del fondatore là dove nel corso della storia poche famiglie hanno generato gli abitanti attuali riproducendosi tra loro senza accogliere stranieri con una minima variabilità genetica come ha scritto Dario Fabri tra le tribù occidentali più rilevanti del pianeta i boeri del sudafrica i chebecchesi del canada i fiamminghi del belgio fedeli esclusivamente a se stesse principale causa dell'incompiutezza degli stati in cui essi vivono ad anni luce di distanza dagli imperi che dominano la nostra epoca su questi argomenti torneremo per così dire la prossima volta e entreremo più nella sostanza di determinati passaggi che come vedete partendo dalla storia vista anche da un'angolazione particolare ci portano poi dalle elezioni americane a quanto sta accadendo nel mondo oggi ci rivelano guardando le cose da un altro punto di vista le spiegazioni reali del presente di quanto accade oggi